Durante il primo secolo dopo Cristo, mentre i romani governavano il mondo allora conosciuto, nell'estremità orientale dell'impero cominciava a nascere, dal basso, un movimento di controcultura. Si, cominciò tra gli ebrei. Che già da secoli si erano dispersi per tutto il mondo allora conosciuto. A prescindere da dove vivessero o da chi lingua parlassero, gli ebrei avevano preservato la loro identità quale famiglia d'Abramo fedele all'unico vero Dio. E ogni anno ritornavano a Gerusalemme in occasione delle festività sacre. Durante una di queste, la festa della Pentecoste, i pellegrini incontrarono un gruppo di ebrei che, in qualche modo, sapeva parlare il dialetto nativo di ciascuna persona. Raccontavano storie al riguardo di un uomo di nome Gesù, giustiziato dai romani. Sostenevano che egli fosse risorto e che fosse adesso esaltato come il vero re di Israele e del mondo intero. Questo Gesù esortava la gente ad adottare una serie di valori contrari a quanto era comune a quei tempi e vivere secondo il suo governo chiamato il Regno di Dio. Migliaia di ebrei decisero di rimanere a Gerusalemme per unirsi al movimento. Crebbero innumero ed influenza, ottenendo il favore della gente. Ma non dei leader del Tempio di Gerusalemme. Questi consideravano il movimento una pericolosa sette religiosa e giunsero persino al punto di giustiziare uno dei suoi leader, Stefano. Gerusalemme non era più un posto sicuro e la maggior parte dei seguaci del nuovo movimento decise di fuggire nella vicina regione della Giudea. Potremmo pensare che questo segni la fine della storia, ma in realtà fu proprio per mezzo di quella tragedia che il movimento si diffuse oltre Gerusalemme. È da qui che comincia la seconda parte del Libro degli Atti. I seguaci dispersi finiscono per raggiungere luoghi inaspettati, come la Samaria, dove vivevano i loro antichi nemici. Sì, e Luca ci mostra come persone di tutti i tipi comincino a seguire Gesù. Tra di loro un mago samaritano, il quale imparerà che il cammino di Gesù non equivale a ottenere maggior potere, bensì alla sua rinuncia per poter servire gli altri. Leggiamo anche la storia di un funzionario etiope, il quale, dopo aver interrogato Filippo su un certo passo del rotolo del profeta Isaia, decise di unirsi al movimento. Gesù espande il suo movimento in tutta la Giudea e la Samaria, proprio come aveva detto precedentemente. Il che è grandioso. Torniamo a Gerusalemme, dove incontriamo un certo Saulo di Tarso. Egli fa parte di quell'elite religiosa che si oppone al nuovo movimento ed è incaricato di trovare e arrestare i seguaci di Gesù, ovunque si trovino. È un tipo cruento e senza scrupoli. Ma proviamo a vedere le cose dalla sua prospettiva. In passato, Israele aveva venerato altri dèi e falsi profeti, causando la propria distruzione. Saulo credeva quindi di poter proteggere Israele e l'onore di Dio, eliminando quelle persone. Viene quindi a sapere che il movimento si è diffuso a nord di Damasco, per cui si dirige verso quella città allo scopo di scovare ed arrestare i seguaci. Durante il cammino, Saulo fa un incontro inaspettato con Gesù risorto in persona. Gesù chiede a Saulo perché gli opponga così tanta resistenza e gli affida al contempo il compito di rappresentarlo a Israele ma anche alle altre nazioni. Saulo è sbalordito. Rimane senza parole. Arriva a Damasco, ma adesso annuncia la buona notizia sul Gesù che, fino a poco prima, aveva ferocemente attaccato. Nessuno si aspettava una cosa del genere. Assolutamente. E tantomeno ci si aspettava quello che sarebbe successo di lì a poco. Nella città portuale di Cesarea viveva un centurione romano di nome Cornelio. Il centurione incarnava tutti i motivi per cui gli ebrei odiavano l'occupazione romana. Un giorno gli apparve un angelo e gli disse di convocare un uomo di nome Pietro. E così Pietro si reca a casa di Cornelio e lo trova in compagnia di parenti e amici. Una cosa del genere era a dir poco scandalosa. Gli ebrei non sarebbero mai entrati nella casa di un non-ebreo per timore di diventare ritualmente impuri. Che farà allora Pietro? Poco tempo prima Pietro aveva avuto una visione. In questa visione Dio gli aveva messo davanti un gruppo di animali che agli ebrei era vietato mangiare e aveva comandato a Pietro di cibarsene. Una cosa assolutamente scioccante per Pietro. Per questo commenta, io non ho mai mangiato nulla di impuro e di contaminato. Dio gli risponde, le cose che Dio ha purificate, non farle tu impure. E così finisce la visione. Significa forse che Pietro dovrà iniziare una nuova dieta? No, Pietro è un israelita e da sempre aveva rispettato queste leggi alimentari. La visione aveva lo scopo di prepararlo al momento in cui si sarebbe trovato circondato da non-israeliti, ovvero persone reputate impure secondo l'ebraismo. Pietro si rende conto che Dio sta dichiarando i non-ebrei come appartenenti alla famiglia di Abramo. Pertanto decide di rimanere a casa di Cornelio e di continuare a parlare di Gesù. Lo Spirito Santo si manifesta proprio come durante la Pentecoste, ma questa volta si posa sul centurione romano e sulla sua famiglia non-ebrea. Il movimento comincia letteralmente ad esplodere. E così, di ritorno a Gerusalemme, Pietro racconta l'avvenimento agli altri apostoli. Gli apostoli cominciano a ricevere notizie di altri non-ebrei diventati seguaci di Gesù in una grande città commerciale del nord, Antiochia. Per questo motivo inviano un uomo di nome Barnaba ad accertarsi della situazione. Barnaba scopre che il movimento di Gesù ad Antiochia è vivo e forte e che è costituito da persone provenienti da tutto il mondo. Barnaba convoca Saulo ad Antiochia, dove collaborano per un anno nel ministero. Insieme, i due apostoli insegnano, vivono tra gli abitanti della città e vedono crescere il movimento. La chiesa ad Antiochia fu la prima comunità multietnica di Gesù ed è lì che i seguaci di Gesù vengono chiamati per la prima volta cristiani, ovvero coloro i quali appartengono a Cristo. E così il movimento di Gesù si trasforma da gruppo di ebrei messianici per lo più stabiliti a Gerusalemme a comunità multietnica che inizia a diffondersi in tutto il mondo. La loro fede era la stessa, si incentrava sulla buona notizia di Gesù crocifisso che è il re di tutte le nazioni. Ma quel messaggio e il loro nuovo modo di vivere destavano confusione e persino minaccia nei cittadini romani che vivevano tra di loro. Nel prossimo video esploreremo proprio l'inevitabile conflitto causato dall'espansione globale di questo movimento che comincia a estendersi, come disse Gesù, fino alle estremità della Terra.